Siamo qui con Esposito e Luca Roscigno, Esposito migliore in campo nella partita tra Pro Militanza e Marto Keller, mentre Luca Roscigno il migliore della squadra avversaria. Allora, Esposito, partiamo alla T, tre gol, partita terminata a 7-2, l'enissima vittoria per questa Pro Militanza che viaggia a una media punti incredibile. Ragazzi, allora, questo come lo dammi? Paolo che sta segnando sempre. Sto l'entrata, sto l'entrata, sto l'entrata, sto l'entrata, sto l'entrata. L'unico problema è che è laziale. Va bene, senti, è inutile chiederti gli obiettivi di squadra, perché poi vengo sfottato pure da Brago, quindi ti chiedo soltanto a livello individuale. Sì, sì, per me è anche lui il miglior portiere di questo torneo. Ma che fai scotto, è bravo. È abbastanza, per la capo di Marino. Per la capo, per la capo. Senti, a livello individuale, tre gol, no, quattro gol oggi, non so quanti ne fatti precedentemente, quindi... A chi sei che punta questo Esposito? Capocannanera, il migliore giocatore del torneo. Del torneo, Tecame, ok, va bene. Senti, passiamo a Luca Roscigno. Luca, Marto Keller che quest'anno purtroppo magari stanno deludendo un attimo le aspettative. Noi riusciamo a trovare componenti, spesso ci sono assenze importanti, quindi noi non sappiamo mantenere molto bene i ruoli, quindi alla fine la difesa non c'è. Ho capito, senti, quest'oggi c'è stato il rientro di Scarano, che comunque è sempre stato uno dei migliori. Purtroppo la valla non entrava anche. Eh, siamo in una fase di rodaggio, però questi Marto Keller sicuramente a livello potenziale possono fare molto di più. Certamente, ma forse è la fase di ritorno. Ho capito, va bene. Posso fare una dedica? Ah, certo. E devo questa partita a Giada. A Giada, ok. Ma possiamo fare una dedica anche noi? La facciamo a Salvatore e Shaloh che ha la febbre e non è potuta venire. Veno mala! Veno mala! Ciao!